Musica Sì, c'è arrivato, questo è il momento 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 Sì, c'è arrivato, questo è il postino Sì, è andato nel falato, eccolo Così, a noi Nicola c'è posto Non ci sta niente, come te lo devo dire È quasi un anno, vado tutti i santi giocano, fai la stessa domanda Mi dispiace, non c'è niente Ma sei sicuro che sto bene? E sono sicuro, sì, in lettere, non ce ne sta Invece, tengo questa cartolina che è fiorua Tutta colorata, guarda quanto è bella Questa sarebbe della signorina Mafarda Ma quella ne riceve tante Fidatella tu, va? La fa? Ma poi sì, te lo dico io, scusa, non ti preoccupare Sì, dici Per dirle Continuiamo la nostra vita E mi hanno sgonfiato un'altra volta le ruote Veramente Eh già Mannaccia, a terra C'era, ero fu in appassionato l'arbero e il limone che servetterà allo strepo Metti e il lattone che li casci e l'ignamma abeto fragida rostana Ricopato l'osso che ha ruotere meglio morte che il suo nastro morto Ogni cosa non sbaglio avete bestemmiato i morti E no, ho fatto una commemorazione dei defunto E noi non avevamo capito perché voi l'avete fatto in napoletano stretto E adesso ve la ripeto in italiano, largo Così ve l'ha gustato più meglio E quello è meglio C'è dire, sentite Mannaccia la terra dove furono seminati quei teneri alberelli di limone Che sono serviti a rendere più lucidi i pometelli di attone Che adornino quelle casse di legno di abete fradicio Dove stanno raccolte meglio trapassate e tutte trapassate vostro E sentite, no? E facciamocelo un'altra volta a fine, va? Ci vuole pazienza ogni cosa, ci vuole pazienza La pazienza ti va molto, quello ci va Ui, la cacciata da bomba a mano, qui Ui, ma sei intensibile Sotta, 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 sotta Ui, la cacciata da